Quando uscì la seconda serie, addirittura si poteva già considerare obsoleta la prima serie. Poi nel corso degli anni si è capito che sono belle entrambe. Qui davanti abbiamo una Uno Turbo prima serie. Questa è di un socio delle marche, il mio amico Luca Spadoni. È un modello del 1985, quindi prima serie. Infatti il prossimo anno, nel 2025, decorrerà il quarantesimo anniversario della nascita. Il prima serie, come si può vedere, ha i cerchi diamantati e anche la mascherina non in tinta. Mentre invece se ci spostiamo più in giù, questo invece è un esemplare seconda serie, che sarebbe il restyling della prima. Viene presentata nel 1989 e viene prodotta dal 1990 e si differenzia rispetto alla prima serie con diversa tipologia di cerchi, motore 1.4, mascherina anteriore in tinta e una diversa tipologia degli interni. volante in pelle, diciamo che è stata molto molto rifinita nel corso degli anni. Quando uscì la seconda serie, addirittura si poteva già considerare obsoleta la prima serie. Poi nel corso degli anni si è capito che sono belle entrambe. Non c'è distinzione. Chi ha la prima, chi ha la seconda è sempre facente parte del nostro mondo, né più né meno. Chiaramente, essendo una macchina sportiva, e seppur che sia derivata da una umilissima utilitaria, alla gente piace personalizzarla. Infatti, durante i raduni non ce n'è una uguale a quell'altra. Quindi, ci piace cambiare gli scarichi, ci piace cambiare i cerchi, ci piace cambiare il volante, ci piace renderla bella al nostro occhio. E va anche detto che il mercato propone tantissime cose in commercio che si possono acquistare e montare. Qui sono stati montati dei cerchi Monte Carlo, da 16 pollici, derivati dalla Lancia Delta. Come vedete, impreziosisce molto l'auto. Unitamente al montaggio dei cerchi, è stata vistosamente abbassata, fatto un bel assetto al veicolo. C'è chi è amante delle personalizzazioni, e c'è chi è amante di lasciarla quanto più come mamma Fiat l'ha fatta. Io, ad esempio, sono uno di quelli. Mi piace l'originalità, mi piace la conservazione di tutto ciò che sono le parti originali del veicolo, come ad esempio questa qua bianca, che rispecchia proprio la completa originalità del veicolo, e chiaramente mantenendo quanto più possibile le parti originali della macchina. Poi, se ci spostiamo poco più in qua, possiamo vedere sempre un esemplare seconda serie, alla quale non hanno mantenuto l'originalità, ma hanno fatto una personalizzazione. In effetti c'è un cambio colore di un grigio che non è nella cartella colori Fiat di quell'epoca, ma è un grigio totalmente diverso, e oltretutto è stata anche verniciata la mascherina, e fatti in tinta anche i paraurti. Vediamo l'applicazione, il montaggio, di quattro cerchi in lega del Fiat Coupé, cosa che va molto in voga ultimamente, mentre invece per quanto riguarda gli interni hanno preferito mantenere gli originali, che a me piacciono tantissimo. Buonasera a tutti, io mi chiamo Fabio, io Daniel, io vengo da Roma, e io dal Veneto. Allora, qui abbiamo una prima serie, anno 88, anti-skid, la macchina è completamente preparata, monoblocco 1.3, pistoni, bielle, testa lavorata, condotti, valvole maggiorate, impianto benzina, turbo 3071, impianto frenante maggiorato, elettronica, che non è più di serie, gate esterna, poi c'è un impianto a metanolo, la macchina adesso gira un barra e sette di turbo, come potete notare, flauto di benzina, collettori in acciaio, fatti appositamente sulle specifiche del preparatore, gate esterna, farfalla maggiorata, tubazione in acciaio, vaschetta in alluminio, perché la vaschetta di plastica non la supporta più, col calore si tende a lesionare. La macchina attualmente non è stata bancata, sta intorno sui 300-310 cavalli, per la pressione che eroga al momento, poi più in là verrà fatta mappa 2, e lì andremo ben oltre i 300. Allora, qui come possiamo vedere, non è una normale strumentazione, cioè ci sono dei manometri aggiuntivi, che è la pressione turbo, e GT gas di scarico, e la carburazione messa al centro, eliminando il manometro della pressione turbo, che usciva all'epoca. Poi c'è la benzina, acqua motore, temperatura del motore, temperatura olio e pressione olio. E qui poi è stato aggiunto un manometro per vedere il voltometro della batteria, ed è stato cambiato la colorazione interna del quadro, resa bianca a LED. Allora passo la parola al mio collega di elaborazione, ok. Allora la mia è una seconda serie, invece in confronto alla prima serie di mio amico Fabio, sono stati fatti presso a poco gli stessi lavori, solo che invece di avere il turbo un po' più in alto, è stato messo un po' più in basso per cercare di camuffare, ma ci si prova sempre. Sempre tutto fatto, testa fatta, valvole, aspirazione, pistoni, bielle, albero, e tutto quello che ci va dietro. Wistgate esterna come quella del buon Fabio, di elettronica è stata montata un'elettronica EFI per gestire tutto al meglio, e di differenza dalla macchina di prima non è ancora stato montato o è stato già smontato l'impianto a metanolo, perché per ora abbiamo ritenuto che sia meglio così, però si punta come la sua a reinserirlo nel tipo di preparazione. Come cavalleria siamo su un bar 6, anche io sono sui 300-310 in base comunque a temperature esterne che possono influire sulle pressioni con cui andiamo a lavorare. Stessa cosa, impianto frenante, assetto completo e tutto quello che serve per gestire un motore così su una macchina degli anni 90. Grazie a tutti! Grazie a tutti.